Ciao amici di Valdo TV, questa sera siamo qui alla chiesa di Bigolino per un concerto in onore del centenario della Grande Guerra con il coro Voces Plavis diretto dalla maestra Analia D'Aprà e il coro Cortina diretto dal maestro Marino Baldissera. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dopo i concerti di questa sera domani avrà luogo l'onore ai caduti e l'alza bandiera. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.